Vi è mai capitato di sentirvi dire da vostra madre o dalle vostre nonne vai a letto che è tardi o l'uomo nero verrà a prenderti? Ho sempre avuto paura di finire nella grinfia dell'uomo nero ed è forse per questo motivo che ero solito a svegliarmi nel cuore della notte pieno di dimori. Più volte andai in camera di miei cercando con forti un loro abbraccio, ma col tempo questa abitudine divenne causa di litigi più o meno intensi tra mia madre e mio padre. Ricordo ancora quel giorno in cui mio padre, uscendo di casa per andare di pattuglia, urlò a mia madre di smetterla di raccontare queste storie assurde. Ho quasi vent'anni e tutt'oggi ho problemi legati al sonno. Pur di darmi coraggio, spesso capita che mio padre mi abbracci fino a farmi addormentare. Talvolta, in uno dei miei bruschi risvelli, sentivo ancora il suo braccio su di me, cosa che mi aiutava a riprendere facilmente sonno. Ieri notte, tuttavia, mi sono svegliato madido di sudore e ancora una volta sentivo il familiare braccio su di me, ma il mattino dopo realizzai l'incubo di quella sera prima. Mio padre era di Ronda ieri sera. Mio padre era di Ronda ieri. Mio padre era di Ronda ieri. Mio padre era di Ronda. Grazie.